È un premio davvero, io si dice sempre l'emozione, quelle cose là, ma qui va al di sopra, sapete che noi abriamo gli istinti, le emozioni e in vetta ci stanno i sentimenti, il sentimento è sommità fiorita, la nostra sommità fiorita e in questo momento io provo un sentimento per voi, nemmeno l'emozione, di più un sentimento d'amore, di gratitudine immensa che non so in che maniera ricambiare se non rimandandovala indietro decuplicata, centuplicata proprio con tutto il mio amore, è un sentimento d'amore quello che sento per aver ricevuto, diciamo, io mi meritavo davvero come ha detto Jane, un gattino, un micino, ma un leone, un leone d'oro alla carriera qui a Venezia, è veramente il premio più prestigioso, più bello, più lucente, più luminoso che si possa sognare in Italia, è veramente, e nel mondo anche. Io che cosa posso dire, due parole brevissime, chi riceve un dono così grande che è una manifestazione d'amore, ripeto, per tutto ciò che uno ha fatto nella vita, ha un solo dovere, ringraziare, come dice il santo, il primo dovere è ringraziare, così bisogna fare, è ringraziare, è un ringraziamento che io faccio a tutti coloro, diciamo, che mi hanno voluto bene, semplicemente creduto in ciò che facevo, dalle prime persone, senza le quali non avrei mosso neanche i primi passi, è entrato nel mondo dello spettacolo, perché io vengo da una famiglia dal nulla, da una povertà meravigliosa, aristocratica, ma una vera povertà, bellissima, e tante persone mi hanno aiutato in questo viaggio che mi ha condotto a questo meraviglioso regalo. E poi tutti i registi con i quali ho lavorato, che hanno creduto in me, che mi hanno scelto, sapete che è un'emozione immensa essere scelti, un'emozione, è tanto bello quando si fa il regista a scegliere, ma è più emozionante. Scegliere e essere scelti sono veramente due sentimenti di nuovo, così alti, profondi, è un'emozione enorme. E poi, alla fine di questo viaggio, vorrei, non posso neanche condividere o dire questo premio dedico a, vorrei, se mi date, concedete proprio qualche momento, concedete per dedicare poche parole a una persona che, insomma, è nell'apice dei miei pensieri, come dice Dante, che paradisa la mia mente, che è, diciamo, qui in sala stasera, la mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, quante sono lì, produzione, interpretazioni, ideazioni dei film. Conosco una sola maniera di misurare il tempo, con te e senza di te. Questa è la mia maniera di misurare il tempo, l'ho sempre stata. Lo possiamo dividere, io mi prendo una parte, io mi prendo la coda per manifestare la mia gioia, diciamo, per farvi vedere la mia allegria. E il resto è tuo, le ali, le ali soprattutto sono tue, perché se qualche volta nel lavoro che ho fatto qualcosa ha preso il volo, è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, al tuo talento di attrice, quante cose ho imparato osservandosi recitare sul set, alla tua femminilità. Guarda, è stato proprio quello che si dice un amore a prima vista, anzi, a ultima vista, anzi, a eterna vista. Grazie a tutti. Grazie.